Su questo tema che per noi è strategico, ma oggi diciamo che non è solo la TAV per Torino e per il Piemonte, ma è per tutta l'Italia che produce, per tutta l'Italia. È un'opera che, oltre a essere già iniziata, è indispensabile e richiede, e oggi vogliamo dare questa visione strategica che bisogna avere sicuramente per capire di cosa ha bisogno l'Italia per i prossimi anni. Vogliamo parlare di manifattura, di export, di connessioni, di via della seta per le nostre merci che vanno in Oriente, vogliamo essere attrattivi per anche il flusso turistico, quindi oggi parliamo veramente che questa opera è strutturalmente importante per il nostro territorio. Lo diciamo insieme a tutte le territoriali del Nord, tutte le associazioni di Confindustria si trovano qui proprio per far sentire la unica voce che non è solo un fatto piemontese, ma è un fatto che vale per tutta l'Italia.